Un blog per offrire aiuto, consulenza e supporto contro la violenza sulle donne ed ospitare contributi multimediali sulle discriminazioni di genere. Si chiama Parità Plus e lo ha aperto la CISL di Foggia. Di parure negli anni ne abbiamo dette davvero tante. Quest'anno volevamo fare qualche cosa di concreto e abbiamo pensato ad un blog, uno spazio di condivisione, di informazione, di formazione, di supporto e io lo chiamerei anche un punto luce, un luogo virtuale a cui potersi rivolgere, a cui le donne possono rivolgersi per comunicare il loro malessere. La cronaca con i femminicidi e la giornata contro la violenza sulle donne offre spunti di riflessioni e proposte. Il lavoro può essere strumento per arginare le violenze. Ci sono tre protagonisti importanti di contrasto alla violenza. La prima è sicuramente un fatto, le prime due, un fatto culturale, parte dalla famiglia, supportata e aiutata dalla scuola. E l'altro, il tema dei temi, è il lavoro. Perché la libertà di poter scegliere la propria vita e decidere che cosa fare della propria vita è molto più semplice se la donna ha la propria indipendenza economica. Cosa che non accade se non c'è un inserimento nel mondo lavorativo. E se è vero che l'attività e quindi l'occupazione femminile è importante per lo sviluppo del nostro paese, dobbiamo creare tutte le condizioni necessarie, partendo da incentivi per le assunzioni delle giovani donne. e poi dobbiamo creare uno strumento di welfare adeguato che possa permettere alle donne di conciliare tempi di vita e di lavoro.